Questa mattina presso la sede del Comitato Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto il primo incontro formativo in ambito sanitario, tecnico e amministrativo rivolto a dirigenti e funzionari della locale azienda sanitaria finalizzati alla prevenzione di azioni e fenomeni illegali. Gli altri due appuntamenti in programma del corso tenuto dalle fiamme gialle su legalità etica pubblica e privata si terranno il 15 e il 17 luglio prossimi. La trasparenza e l'anticorruzione non sono due monadi. La trasparenza serve proprio a rendere più difficile l'annidarsi della corruzione. Si usa spesso dire che la corruzione è sensibile alla luce. Quanto più si mettono in chiaro i dati della pubblica amministrazione tanto più è difficile alla corruzione annidarsi nei meandri dell'attività amministrativa. Complice poi il fatto che la nostra sala riunioni al Padiglio Avinci era interessata ai lavori, abbiamo ritenuto opportuno e grazie anche all'ospitalità della Guardia di Finanza realizzare qui questo incontro formativo suggellando ancora di più la sinergia tra ASL e organi inquirenti e pubblica amministrazione e Guardia di Finanza in un modello virtuoso di sinergia e di aiuto reciproco.